Il regno di Dio Diceva ancora loro In verità, vi dico che vi sono qui alcuni dei presenti i quali non subiranno la morte finché non avranno veduto il regno di Dio venuto con potenza. Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse in disparte, essi soli, su un alto monte dove si trasfigurò davanti a loro. Le sue vesti divennero splendenti e talmente candide che nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così candide. Ed apparve loro Elia con Mosè, i quali conversavano con Gesù. Allora Pietro, prendendo la parola, disse a Gesù Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. In realtà, egli non sapeva quel che diceva poiché erano stati presi dal timore. Allora comparve una nuvola che li avvolse nella sua ombra e dalla nuvola si sentì una voce Ed essi, tutto ad un tratto, guardandosi attorno, non videro più alcuno, se non il solo Gesù, che era con loro. Quando poi discesero dal monte, Gesù comandò loro di non raccontare a nessuno ciò che avevano visto fino a quando il figlio dell'uomo non fosse risuscitato dai morti. Essi osservarono l'ordine, ma intanto si chiedevano tra loro che cosa significasse quel risorgere dai morti. Quindi lo interrogarono. Perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Rispose loro Certo, verrà prima Elia e rimetterà a posto ogni cosa, ma, come sta scritto del figlio dell'uomo, egli dovrà soffrire molto ed essere disprezzato. Io però vi dico che Elia è già venuto e gli hanno fatto tutto ciò che hanno voluto, secondo quanto di lui sta scritto. Raggiunti gli altri discepoli, videro intorno ad essi una grande folla. e gli scribi che discutevano con loro. Non appena lo scorsero, quelli della folla restarono tutti meravigliati e corsero a salutarlo. Allora egli domandò loro, di che state discutendo con loro? Gli rispose uno della folla, Maestro, ti ho portato mio figlio, che è posseduto da uno spirito muto, il quale quando lo afferra, lo sbatte di là e di qua ed egli emette schiuma, di grigna i denti e poi diventa rigido. Ho chiesto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti. Allora egli disse loro, Generazione incredula, fino a quando dovrò restare tra voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo qui da me. Glielo portarono, ma lo spirito non appena lo vide, subito agitò il ragazzo, il quale cade a terra e vi si rotolava con la bava alla bocca. Allora egli domandò al padre di lui, Da quanto tempo gli succede questo? Rispose, Fin dall'infanzia. Molte volte lo ha gettato anche sul fuoco e nell'acqua per farlo morire. Ma ora, se tu puoi fare qualche cosa, abbi pietà di noi e aiutaci. Gli disse Gesù, Se puoi, tutto è possibile a chi crede. Subito il padre del ragazzo ad alta voce disse, Io credo, ma tu aiuta la mia incredulità. Gesù allora, vedendo che la folla accorreva, con tono minaccioso disse allo spirito immondo, Spirito muto e sordo, io te lo ordino, esci da costui e non rientrarci più. Quello, urlando e scuotendolo con violenza, ne uscì, lasciandolo come morto, sicché molti dicevano, è morto. Gesù però, prendendolo per mano, lo sollevò e degli stette in piedi. Quando in seguito fu rientrato in casa, i suoi discepoli gli domandarono in disparte, Perché noi non siamo riusciti a scacciarlo? Rispose loro, Questo genere di demoni non può essere scacciato con nessun altro mezzo se non con la preghiera. Partiti di là, andavano attraverso la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Infatti, stava ammaestrando i suoi discepoli e diceva loro, Il figlio dell'uomo sarà consegnato nelle mani degli uomini che lo uccideranno, ma ucciso dopo tre giorni risorgerà. Essi però non compresero tali parole e avevano paura di interrogarlo. Giunsero a Cafarnao e quando fu in casa domandò loro, Di che cosa discutevate per via? Essi però tacquero perché per via avevano discusso tra loro su chi fosse il più grande. Allora, postosi a sedere, chiamò i dodici e disse loro, Se uno vuole essere primo, sia ultimo di tutti e servo di tutti. Quindi preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e stringendolo fra le braccia disse loro, Chi accoglie uno di questi bambini in nome mio accoglie me e chi accoglie me non accoglie me ma colui che mi ha mandato. Gli disse Giovanni, Maestro, abbiamo visto un tale scacciare i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo proibito perché egli non viene insieme a noi. Gli rispose Gesù, non glielo proibite, poiché non c'è nessuno che operi un miracolo in mio nome il quale possa subito dopo parlare male di me. Infatti, chi non è contro di noi è per noi. Poiché chi vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità vi dico che non perderà la sua ricompensa. Chi poi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono sarebbe meglio per lui che gli si appendesse al collo una pietra da mulino e fosse gettato in mare. Che, se la tua mano ti è di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare monco nella vita che andare con tutte e due le mani nella genna, nel fuoco inestinguibile. Parimenti, se il tuo piede ti è di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare zoppo nella vita che essere gettato con tutte e due i piedi nella genna. Ancora, se il tuo occhio ti è di scandalo, cavalo. È meglio per te entrare con un occhio solo nel regno di Dio che essere gettato con tutte e due gli occhi nella genna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. poiché si dovrà essere tutti salati con il fuoco. Il sale è cosa buona, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli ridarete sapore? Abbiate sale in voi stessi e state in pace gli uni con gli altri. gli uni con gli uni con gli altri. Grazie a tutti.